Si va sempre più pesante il clima nel reparto di chirurgia plastica dell'ospedale Villa Sofia di Palermo dopo la sospensione dal servizio per sei mesi del medico Francesco Mazzola a seguito della morte di una paziente di 68 anni che Mazzola aveva assistito fuori dall'ospedale e poi deceduta proprio a Villa Sofia. Un provvedimento ingiusto per l'interessato che respinge le accuse per i medici e gli infermieri del reparto che si scagliano contro il primario Matteo Tutino, accusandolo di atteggiamenti puramente persecutori nei confronti di tutti i colleghi. Grazie